Le parole che sono emerse in maniera forte durante tutto il percorso della carovana e durante l'incontro internazionale sono proprio le parole autonomia e comunità e questo ci ha spinto ovviamente a fare delle riflessioni che sono assolutamente aperte, che non hanno nessuna pretesa di essere stringenti su niente ma che in qualche maniera vogliamo condividere partendo dalla cosa più banale. A quelle latitudini lì costruire i processi di autonomia vuol dire garantire la sopravvivenza della comunità. Mi spiego, costruire dei processi di autogoverno del territorio, di autogestione dell'acqua, di autogestione del cibo garantisce proprio alla comunità di sopravvivere in quel territorio e non venire dislocata dal governo messicano o scomparire o disgregarsi. Quindi l'autonomia a quelle latitudini lì e in quei posti è proprio una necessità delle comunità e l'autogestione e l'autogoverno sono delle cose che ti servono in primis per sopravvivere. L'autonomia è anche un processo di decolonizzazione ovviamente, è un processo di decolonizzazione che è pesante, è complicato, in cui per fare un po' di contesto l'uomo bianco è arrivato nel 1492, ha cominciato a imporre i propri usi e costumi sulle popolazioni indigene e invece noi nel 2023 quando siamo stati lì abbiamo vissuto tutto un recupero, uno studio con addirittura la costruzione di centri comunitari maia che recuperassero l'utilizzo delle piante e l'utilizzo dei riti, della spiritualità, del legame con la terra che sono cose che l'uomo bianco, il capitalismo hanno cercato di cancellare per poter fare quello che volevano con quei territori e quelle comunità e invece queste comunità si sono riappropriate con fatica di tutta una serie di valori, sistemi sociali e capacità che comunque l'uomo bianco ha sempre cercato di eliminare per poter governare al meglio quei territori. La cosa pazzesca è che, o pazzesca insomma, la cosa che fa riflettere molto è che nonostante queste comunità che cercano di costruire la loro autogestione e la loro autonomia siano un esempio di come il capitalismo può attaccare nella maniera più cruda la vita delle persone e dei territori queste comunità costruiscono degli anticorpi attraverso questo processo di decolonizzazione perché non interiettano meccanismi di estrazione del valore di sfruttamento e capitalistici fondamentalmente all'interno delle comunità stesse, all'interno delle comunità che abbiamo conosciuto principalmente si vive di un'economia di sussistenza in cui si soddisfano le necessità di base delle persone secondo principi di mutualismo e di solidarietà soprattutto e di prossimità tra vicini, tra persone che vivono lo stesso territorio e vogliono continuare a viverci. questi valori sono dati anche dalla cultura di cui si sono preparati gli indigeni di quei luoghi che fa proprio in modo che determinate pratiche capitalistiche, determinate pratiche anche di estrazione e di sfruttamento sul più debole non abbiano luogo in quella maniera valorizzando di più quello che è la vita in armonia con la terra senza cercare di espandere la propria comunità, senza cercare di arricchire la propria comunità, ma più abbiamo visto, e questo è il grande lavoro che stanno facendo anche le compagnie e le compagnie in Messico, la ricerca di relazione e di relazioni con altre comunità. L'esempio dell'APIT è uno, ma se si guarda anche al Congresso Nazionale Indigeno è un altro esempio, anche questa cosa qua. Il riuscire a mettersi insieme e a trovare relazioni all'interno delle proprie autonomie credo che sia una lezione che ci portiamo a casa dal Messico e che vogliamo condividere con tutte le compagnie e compagni che troviamo qua. Dico le ultime due cose perché un altro intervento che ci ha colpito durante l'incontro internazionale è stato l'intervento di Rao Zibeci che fondamentalmente dentro un passaggio sosteneva che in America Latina il 40% delle terre è ancora in mano a popoli indigeni oppure popoli che sono stati portati durante la tratta degli schiavi, comunità che non applicano metodi capitalistici all'interno di questi territori. e la cosa ci ha ovviamente colpito, cioè il 40% di terre che in questo momento sono sotto attacco del capitalismo e che resistono non sono proprio poca cosa, insomma. La cosa che ci viene da dire mettendo in relazione con quello che viviamo qua sapendo che non si può fare copia e incolla, preparazione culturale, sapendo che non si può andare a fare paragoni trappostringenti perché vorrebbe dire non mettere in incontro il proprio privilegio che si ha quando si arriva in quel territorio e quando si vivono quei territori lì. Credo che alcune domande comunque potremmo farcele perché è abbastanza evidente che il territorio in cui viviamo, l'Europa, il Veneto in particolare, non ha il 40% di terre libere dal capitalismo. Viviamo un territorio estremamente cementificato però il capitalismo ha abbandonato alcune cose che non gli servivano più e che potrebbero in questo momento essere in qualche maniera delle quali potremmo riappropriarcene per far sì che questi posti siano catalizzatori di processi comunitari e in grado di creare delle relazioni che in questo momento nell'individualismo pesante che viviamo all'interno del mondo occidentale si sono assolutamente perse. Un'altra cosa che abbiamo visto è l'importanza della storia del proprio territorio, il ragionare su quelli che sono stati e quelli che possono essere invece dei sistemi sociali solidali, mutualistici che entrino in conflitto con l'estrazione di valore dalle nostre vite e dai nostri territori sono cose che stanno dentro al DNA anche della nostra società e che ci siamo persi in qualche maniera e che in qualche modo dobbiamo andare a recuperare per far sì di essere meno individui all'interno di una società e più comunità in cerca di un'autonomia e basta.